Non ce l'ha fatta Giuseppe Papa, 85enne napoletano, che ieri pomeriggio è deceduto all'ospedale dell'Immacolata di Sapri. L'anziano ieri mattina è stato investito da un'automobile lungo la strada statale 18, che collega Sapri a Villa Mare. La vittima originaria del napoletano, il residente al nord, si trovava a Sapri per trascorrere un periodo di vacanza nel golfo di Policastro. L'anziano è stato travolto mentre stava attraversando la strada all'altezza del Camping Oliveto, da un Alfa Romeo, guidata da un uomo originario di San Giovanni a Piro. L'ulto tra l'automobile e l'uomo è stato molto violento, tanto da danneggiare anche il parabrezza del veicolo. La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale in codice rosso, ma per l'anziano purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il conducente del veicolo è sceso immediatamente dall'auto per prestare soccorso. Sul posto due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Sapri, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale.